Nei giardini della scuola primaria Ettore Carafa è nato un piccolo orto didattico realizzato dagli alunni con l'aiuto dei loro nonni. Il progetto si intitola Festa di Primavera ed è pensato per avvicinare i ragazzi al giardinaggio. Per due giorni alla settimana, avvalendosi della consulenza di esperti del verde, le classi materne ed elementari dell'istituto hanno dedicato un'ora di studio alla classificazione di fiori, piante e alle tecniche di coltivazione e cura di un terreno. Noi abbiamo fatto vedere ai bambini un seme, l'abbiamo piantato e è uscita una piantina. Da queste bambini hanno radicato, hanno fatto un buchetto con un affare che si chiama piantatore, in napoletana si chiama upasta natura, una cosa molto importante, è una parola antichissima. Le parole hanno cominciato a innaffiare, hanno cominciato a togliere l'erba, tutte le erbacce che stavano dentro e da premettere che abbiamo fatto tutto con concimi biologici. Siamo rimasti talmente contenti perché i bambini hanno partecipato con le loro mani, hanno piantato l'oro, hanno annaffiato, hanno fatto tutto l'oro. Il progetto è stato promosso dall'Associazione Culturale L'Obiettivo con la collaborazione dell'Ottava Municipalità, degli Assessorati all'Ambiente e alla Scuola del Comune ed il contributo dell'Orto Botanico di Napoli che ha donato alcune essenze arboree. Il mio sogno dei nonni è curato di trasmettere qualcosa di positivo ai ragazzi, che poi questo fatto viene fatto in una scuola, che cade in un quartiere all'Ottava Municipalità che ha un tasso di evasione scolastica altissima e ha generato anche una disaffezione scolastica altissima, perciò questi tipi di progetti vanno proprio in quella direzione, quella di far affezionare i ragazzi alla scuola. Siamo di fronte ad una di quelle esperienze di cui Napoli può andare orgogliosa e che naturalmente deve avere, questa è la mia opinione da assessore ma anche da genitore e da donna di questa città, deve avere una continuità e deve diventare un modello per tante altre scuole napoletane.